questo articolo di intel ha riscontrato una valutazione di 9.4 su 10 totali risulta il più venduto i suoi pregi sono stabilità ottimo rapporto qualità prezzo livello del rumore efficienza energetica se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione finale assegnata a questo articolo di intel è di 9.6 voti su un totale di 10 questo è il migliore di questa selezione le sue principali funzionalità sono livello del rumore stabilità efficienza energetica ottimo rapporto qualità prezzo puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di intel è di 9.4 su 10 è al momento il più votato con 794 valutazioni per questa categoria si tratta di un modello di pregevole fattura con un rapporto qualità prezzo elevatissimo ed è molto apprezzato dagli utenti in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto complessivo di questo articolo di intel è di 9.6 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo le sue peculiarità sono stabilità ottimo rapporto qualità prezzo livello del rumore se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video intel con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 9.2 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore le sue qualità sono stabilità ottimo rapporto qualità prezzo livello del rumore efficienza energetica se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video intel ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.4 su 10 risulta essere il più scontato di questa selezione i punti di forza sono leggero stabilità livello del rumore ottimo rapporto qualità prezzo efficienza energetica trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video